Se volevamo proporvi un'altra intervista, caratteristica soprattutto, chi è che vi stiamo proponendo? È Salvatore Spoto ed è il direttore dell'Agenzia Nazionale Internews e tra l'altro anche corrispondente di Repubblica. Ci pare interessante questo suo intervento, questa sua partecipazione al nostro evento e ve lo proponiamo così come l'abbiamo registrato. Abbiamo visitato il territorio del Galtara dei Messapi, una cosa è sentirne parlare, una cosa è vederlo con i propri occhi e toccarlo con le proprie mani. L'esperienza e le prime impressioni di questo educational qui nel Salento e nel Galtara dei Messapi? La terra dei Messapi è una terra dove mito e storia si coniugano con l'arte, la civiltà e la cultura. Quella soprattutto del buon vivere, del buon cibo e dell'ottimo vino. È stato come la carezza dello spirito della natura che fa sentire completamente diversi e fa di questo territorio un luogo dove è possibile incontrare l'arte della salute e del benessere insieme all'arte del gusto e del godere il sole di questa terra.